Lo Sport in collaborazione con ID Studio è l'azienda italiana famosa nel mondo per la qualità dei suoi arredamenti di design ecosostenibili. Case cinematografiche e tv hanno scelto i mobili ID Studio per i loro set. X-Factor, The Voice, importanti film. D'oggi ID Studio propone questi mobili a prezzi speciali che non troverete mai più. Arrederete la vostra casa con prodotti unici e famosi. Più che una corsa polistica o una passeggiata, che in molti hanno affrontato chi con i loro bambini, chi con il proprio animale. Ma quel che è importante è che è stata comunque molto salutare, non soltanto nel vero senso della parola, ma anche perché chi vi ha partecipato, ed erano in molti alla partenza dal centro di incontro Galimberti di via Pochettini ad Alessandria, ha contribuito con la sua iscrizione a sostenere le tante iniziative messe in campo dalla Fondazione Uspidalette. Un momento servito anche a ricordare in maniera forte un personaggio mai dimenticato, che tanto ha dato alla città di Alessandrini, l'ex sindaco Francesca Calvo, a 16 anni dalla prematura scomparsa. La Calvo governò Alessandria dal 1993 al 2002, guadagnandosi la stima dei suoi cittadini, soprattutto gestendo brillantemente la tragica situazione creatasi dopo l'alluvione del 1994. A lei viene dedicato ogni anno questo momento, che unisce sport e solidarietà e che viene denominato appunto Francesca nel cuore, Memorial Francesca Calvo, organizzato dal Comitato Provinciale AICS in collaborazione con il GS di Leonardo e il patrocino del Comune della provincia di Alessandria. Una manifestazione polistica a passo libero, non competitiva, che partendo da via Pochettini, si è snodata lungo un percorso di 5 chilometri, su viale Michel, via Monteverde, via Galimberti, toccando il parco aeroporto, la caserma artiglieria, l'area pedonale di viale Militegnoto. Per tornare al punto di partenza, dove ad attendere i partecipanti c'era il gradito pasta party, un modo per far rimanere attraverso lo sport sempre più viva la figura dell'amato ex sindaco. La città di Alessandria la ricorda volentieri anche in altre circostanze. Recentemente era stata organizzata presso il Museo Etnografico di Piazza della Gambarina una mostra con foto inedite e articoli di giornale. Sono stati proprio gli amici di Francesca Calvo a voler rendere omaggio alla memoria di un'amministratrice locale benvoluta dalla gente rispettata dagli avversari, che è sempre stata legata indissolubilmente al proprio territorio. Ci aspettiamo per stupirvi anche con un omaggio. Buon appetito! Buon appetito!